buongiorno amici ben ritrovati su uncinetti allo svaraglio cosa ne pensate di realizzare insieme una pallina natalizia come questa che ho tra le mie mani decisamente bella grossa spero che dall'inquadratura si veda per poter sia decorare il nostro albero sia perché no fare un regalo gradito a qualcuno di speciale vediamo gli occorrenti innanzitutto dobbiamo avere una pallina nel mio caso utilizzerò una pallina in polistirolo di quelle bianche ciò non toglie che possiamo utilizzare magari una vecchia pallina usurata dal tempo per poterla riciclare del filato nel mio caso ho scelto un filato e misto lana perché appunto cioè essendo bella paciucosa mi piace l'idea di farla di farla appunto in un filato lanoso un uncinetto in questo caso più piccolo rispetto al leggermente più piccolo rispetto all'uncinetto consigliato del filato delle decorazioni nel mio caso ho scelto una decorazione molto delicata costituita da una pallina da una scusate non è una pallina una perlina e del nastrino e infine abbiamo un bisogno di un ago per poter chiudere la nostra lavorazione allora come facciamo innanzitutto noi lavoreremo con una maglia elastica un punto elastico quindi la maglia bassa presa in costa suggerimento allora noi dobbiamo stabilire bene come vogliamo che venga la nostra palla infatti molto spesso vedono i tutorial si dice tranquillamente facciamo una nella lunga mezza mezza circonferenza e si parte di lì problema però cosa succede nel momento in cui io vado a realizzare la mia copertura con un filato appunto lanoso con una lavorazione elastica perché lavoreremo a maglia bassa presa in costa cosa succede che la mia lavorazione una volta confezionata tenderà ad essere più grande sicuramente della palla stessa per fare ciò io infatti ho realizzato la decorazione superiore semplicemente allungando il ciuffetto di lavorazione che ho se voi volete potete fare innanzitutto un numero inferiore di maglia io vi consiglierei di lasciare almeno due o tre centimetri prendete la circonferenza e togliete due o tre centimetri e poi potete andare a decorare la sommità la parte superiore della palla come più vi aggrada con dei fiorellini fatti sempre con lo stesso filato con dei merletti dei pizzi e quant'altro dipende un po dal vostro gusto io ho preferito fare così perché la lavorazione è secondo me più semplice più veloce e poi effettivamente chiudo un attimo la tenda e mi dà l'idea di essere che sia più delicata più funzionale veloce per per tutti e diciamo per i regali va più che bene allora cosa facciamo prendiamo come ho detto spostiamo un po di materiali importante che non me le rubi la gattina abbiamo una catenella non c'è multiplo abbiamo una catenella sufficientemente larga lunga scusate per poter appunto ricoprire la nostra pallina io provo 2 3 4 5 6 7 8 9 occhi eccoci qui allora noi adesso abbiamo una catenella lunga 30 maglie vi faccio vedere la mia catenella parte dal centro superiore arriva molto bene al centro inferiore quindi farò una lavorazione come quella la pallina che avete visto in precedenza vi ricordo appunto che se voi volete evitare cioè volete ricoprire la pallina e poi decorarla con altre decorazioni realizzando altre creazioni all'uncinetto dovete togliere due o tre centimetri allora ci alziamo con una catenella torniamo nel primo punto ripassiamo tutta la nostra catenella di maglie basse come ho detto il numero di catenelle avviate indicativo dipende molto dalla dalla grandezza della pallina dal tipo di filato dalla vostra mano l'unica cosa che io vi consiglio vi posso consigliare utilizzare un uncinetto più piccolino rispetto al diciamo all'uncinetto consigliato e durante la lavorazione questo perché appunto essendo innanzitutto se utilizziamo un un filato diciamo di quelli invernali che sono molto più elastici rispetto al cotone avrete comunque una lunghezza importante nel momento in cui finite il lavoro perché la lana lo sappiamo e diciamo i filati lanosi io li chiamo così comunque quelli invernali sono molto più elastici rispetto al cotone pertanto quello che vi consiglio di fare appunto utilizziamo un uncinetto più piccolino anche perché così la nostra maglia elastica perché di maglia elastica si tratta sarà più compatta e quindi non si intravederà la pallina sottostante che è in polistirolo e questo è il primo consiglio e poi appunto cercare di utilizzare un uncinetto più piccolino è sempre utile per compattare meglio questo tipo di lavorazioni intanto fatto il primo giro mi sollevo con una catenella avvolto il mio lavoro e vado a lavorarmi in costa tutti i giri in costa retro perché appunto io voglio l'effetto di maglia elastica perché appunto dobbiamo creare un piccolo rettangolino quadrato a seconda della grandezza della pallina per poter poi avvolgerla al suo interno e chiuderla allora una volta terminato il pannellino proviamo la nostra pallina se può essere ricoperta con con il pannello stesso è sufficientemente grande io sono andata avanti per scusate cambiamo inquadratura sufficientemente grande per poter rivestire appunto la nostra pallina io sono andata avanti per 34 giri adesso non ci resta che chiuderla in questo modo ripieghiamo in due il pannello creato è venuto un bel rettangolo io sto quasi utilizzando un gomitolo di filato quindi 50 grammi adesso andiamo a bordare a ripiegarle in due chiudere il tutto con delle maglie bassissime ok si può fare anche con l'ago però io preferisco con la maglia bassissima perché appunto rende comunque la lavorazione sempre elastica collago questo non avviene viene più tirata quindi entro nel primo gancetto vado nel quello di fronte tiro opla mi sono perso un attimo allora riprendo qui vado di là prendo il filo mi fa dannare in questo momento chiudo continuo così entro e chiudo come avete visto cioè adesso che abbiamo concluso la nostra lavorazione avete potuto notare come il nostro pannellino è sicuramente molto più grande e più grande rispetto alla sfera quindi per quello come vi dicevo inizialmente non conviene prendere come misura la metà circonferenza della sfera che vogliamo andare a ricoprire ma comunque togliere dei centimetri questo è molto importante perché in parecchi tutorial ho notato che questa cosa non viene detta proprio perché dipende molto dal modello che noi vogliamo andare a creare cioè come dicevo se io voglio ricoprire tutta la pallina e poi applicare in un secondo momento le decorazioni devo comunque prendere come riferimento mezza circonferenza e togliere qualche centimetro perché appunto soprattutto quando utilizzo dei filati già di per sé elastici quindi che tendono ad allargarsi questo fa sì che la mia lavorazione appunto diventi troppo grossa e non funziona la cosa quindi diciamo che a meno che non io l'ho fatta in questo mondo perché a me piaceva l'idea tipo sacchetto la pallina nel sacchetto in pratica proprio tutta bella volta e ho anche lo spazio appunto il pezzo che mi permette di decorare quindi faccio meno lavoro ho un lavoro finito nessuno mi toglie non c'è nessuno mi dice che non possa poi decorare per esempio con un effetto pizzo il bordo superiore quindi anche con altre tonalità di colore io le volo le ho volute proprio realizzare con queste tonalità panna proprio per dare un effetto un pochino più elegante più elegante raffinato al tutto una colorazione neutra anche perché l'ho pensata soprattutto come un'idea regalo personalizzata quindi per un passepartout allora nel momento in cui ho finito di di bordare vedete quindi ho creato un'altra costina taglio sufficientemente filo per poter avere chiudere e cucire la base come faccio allora tagliato il filo chiudo in questo modo dopodiché infilo il la lana che mi è avanzata con un cappietto ok ci siamo cosa faccio devo andare a stringere questo qui amo di cappuccio in modo che poi possa infilarci la la pallina cosa faccio ho sfrutto le costine della lavorazione per infilare in questo modo ok poi ci andiamo a ripassare nuovamente per poter stringere ulteriormente la lavorazione ok vedete proprio sfrutto le costine del della maglia elastica della maglia bassa in costa è bellissimo questo questa forse mi sta venendo ancora più graziosa della prima che ho fatto con questo questo tipo di bordatura mi raccomando fate passare lago una volta sopra sotto sfruttate appunto il plan e vai con le botte al alla camera allora una volta finito se vi rendete conto vedete adesso qua c'è un'apertura ripassiamo per bene iniziamo a lavorare dall'interno tanto questa è la parte che noi andremo a mettere dentro la nostra pallina ok così così ma è bellissimo questa cioè non sembra ma quando noi abbiamo stiamo lavorando con dei filati belli di qualità anche una semplice maglia bassa in costa ci dà un effetto meraviglioso allora chiudiamo ho chiuso vedete il mio fondo lo chiuso taglio un po di filo perché non ti sa mai che non ci sia qualche problema di buchino e quindi ti svolto così metto sul dritto il mio sacchetto poi nuvole a fena brava questo mi serve cosa faccio vado a infilare nel mio sacchetto la pallina guardate che meraviglia eccola qui la mia pallina infilata da vedete cosa succede che qui mi ritrovo con un cappietto vedete un tipo un fiocchetto cosa faccio stringo bene faccio aderire bene appunto in altezza la mia lavorazione se ho sufficientemente l'anno ancora nel filo magari ne prendo un capo molto più lungo vado in pratica a restringere a modi caramella la parte superiore ok infilo e la lago in questo momento taglio guardate 50 grammi questo è ciò che mi ha avanzato di un un gomitolo per fare questa lavorazione diciamo che con un filato di media qualità buono con un paio d'euro così potete fare la vostra pallina natalizia personalizzata cosa faccio innanzitutto vado a stringere un pochino qui come ho fatto per il fondo fermo il filo in qualche modo vedete adesso a me esce perché il nodino è piccolino allora cerchiamo di farlo per benino con calma prendo un po qui se mi accorgo che c'è qualche problema magari cerco di agganciarmi nel cappietto stesso potreste anche realizzare un cappietto qui al posto del nodo facciamolo insieme così è più facile poi agganciarsi tanto questo pezzo di lavorazione sotto verrà ricoperta dalla ricciatura vedete in questo modo io ho fermato il mio filo il mio filo in questa posizione adesso faccio in pratica quello che ho fatto inizialmente sotto mi baso sulle coste cerco di passare lago alla stessa diciamo diciamo sulla stessa maglia in questo modo e tiro ok così mi viene proprio un sacchettino così vado riuscite a vedere mi auguro di sì mi auguro che riusciate a vedere in questo modo così vado a stringermi questo mi permette che cosa appunto come ho detto prima di ovviare al innanzitutto se non siamo precisissime qui siamo state abbastanza precise quindi la pallina è venuta bene se noi vogliamo appunto realizzare un altro tipo di pallina quella che prevede poi la decorazione successiva dobbiamo fare attenzione alle cuciture sovrastanti ok quindi guardate quanto mi ha avanzato di lavoro nel mio caso allora siamo qui vado a chiudermi di qua ok l'unica cosa adesso è importante che qui sopra venga sempre più stretto cosa faccio ci ripasso ci ripasso per fermare l'arricciatura come ho fatto in precedenza un pochino macchinoso prova a tirare su allora sto concludendo la parte superiore del mio colletto della mia pallina in questo modo ok adesso fatti questi passaggi cosa faccio vado un po come quando si ferma il bottone nell'asola vado un po a girare intorno con il mio filato in modo appunto da creare un effetto caramella eccolo qua vedete guardate che bella questa è diventata ancora più grande adesso poi salgo sopra con l'ago lo infilo e passo nel mezzo qui al centro noi possiamo decidere il da farsi allora qui secondo me per quanto è grande la mia la mia pallina cioè il mio mio ricetto che è venuto fuori potrei applicare tantissime decorazioni secondo un bel fiocco qualcosa io in questo momento ho una perlina per poter farvi farvi vedere come lo l'ho messa e del nastro però effettivamente questa mi è venuta un pochino più grande rispetto all'altra l'altro l'avevo fatta di prova non avevo conteggiato però immaginate già questo un po messa verso il basso magari bordato questo qui con del filo laminato colorato diventa sicuramente una una decorazione sciccosissima molto sciccosa ciò non toglie che magari potrebbe essere anche decorata con della colla un po glitterata adesso dobbiamo cercare sto cercando di infilare nel buchino mi vengo ad aiutare col lago la mia perlina non non riesco ad infilarla con questo ago qui perché è molto spesso lago vedete non entra comunque bisogna infilzare dai provo con le forbici a spingere con le forbici il cappiatto infilato eccolo qua dai non mi fare capricci un po di pazienza ok sta uscendo eccolo qua la mia perlina è stata infilata come vi stavo dicendo potete decidere voi come decorare queste mega palline lanosa io uso questa perché non voglio non voglio dare un tono troppo troppo glamour alla alla mia pallina ok la fermo qui rientro rientro e passo fuori col lago riporto diciamo all'esterno lago perché perché in questo modo se io non ho eccola qui vedete che bella abbiamo messo la nostra perlina al centro se io non ho voglia di utilizzare qualche altro cappiatto direttamente con il filato di lana posso crearmi poi l'aggancio per da prendere da prendere all'albero stesso ok io faccio in questo modo qui è il cappio gli faccio un nodo in modo da avere il cappio poi fermo per poterla poi appendere poi ognuno di noi deciderà cosa fare di questa pallina ciò non toglie che le posso mettere anche come decorazione in un vassoio non solo sull'albero più piccoline potrebbero essere anche potrebbero anche essere utilizzate come segnaposto perché no fatte minuscole queste diciamo sono tra le più grosse quelle per l'albero tra le più grandi il mio gancetto qui in alto c'è allora in questo a questo punto noi possiamo sbizzarrirci in che senso nel senso che io ho la mia bella sfera mega decorata con un bel cerchione posso decidere per esempio di fermarlo in questo modo cercare di arricciarlo oppure semplicemente tenendolo così posso decorare con dei nostri sia nella parte esterna come sto facendo io opla si muove tanto sbagliato a non mettere appoggiata su anche su un bicchiere per lavorarci in questo modo basta tagliare poi il nostro nodino il nastro voi potete utilizzare per esempio un un altro nastrino un pochino più con un colore magari più vivace potete contornare la perlina e quindi legarlo sotto la perlina e vi viene il doppio il doppio fiocco un esterno magari un altro rosso oppure dorato intorno alla perlina e farla scendere detto ciò il mio progetto è ultimato spero che la cosa cioè l'effetto vi sia piaciuto adesso poi facciamo le foto e ne metto nella miniatura se è così mi raccomando iscrivetevi al canale e presto preparerò ulteriori tutorial non dimenticatevi di uncinetti allo sbaraglio e al prossimo video tutorial alla prossima eccola qua la perlina a presto e buone feste buona creatività